Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Bilancia, tendenze energetiche generali per la primavera 2024 e abbiamo la carta del matto. Amici della bilancia, quando c'è il matto si parla di nuovi inizi, si parla di entusiasmo, di qualche cosa, io lo sento sempre come qualcosa di esplosivo, no? Potrebbero essere delle nuove idee, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere una nuova avventura sia a livello romantico che a livello proprio di viaggio. andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Se non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo e me nel caso vogliate contattarmi, le previsioni del 2024 e il link alle taropratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere che aria tira per questa primavera, amici della bilancia, wow, giustizia, amanti, torre, cavaliere di pentacoli, fante di bastoni e nove di bastoni. E' interessante perché ci sono tre arcani maggiori, tutti in fila. Amici della bilancia, adesso andiamo a vedere carta per carta, andrò anche poi a spiegarle, dopodiché andrò a dare delle indicazioni in più per i single, per chi è in coppia, per i lavoratori autonomi, per i disoccupati, insomma andiamo a vedere un po' settore per settore. Dunque, partiamo da questa giustizia. La giustizia di solito fa riferimento a qualche tipo di contratto, a qualche tipo di regolarizzazione o anche qualche tipo di taglio, che diciamo che secondo me è più all'inizio della primavera. Andiamo a vedere la giustizia. Questa si è fermata così. Guardate, l'arcano minore della giustizia, il 6 di pentacoli, è un fante di bastoni, ne voglio ancora una. Ok, due di coppe. Scusate, otto di spade, fante di spade e due di coppe. Allora, devo dire... Ho come la sensazione che si debba rimettere in equilibrio qualcosa con questa giustizia. O che si sia messo in equilibrio qualcosa. Diciamo che ho come l'idea, ragazzi, che dovrete un po' uscire. E' come un ripristinare gli equilibri, uscire da certi equilibri per ritrovarne di nuovi. Adesso andiamo a vedere anche le altre carte, poi vediamo che indicazioni più specifiche posso darvi. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo un fante di coppe. Allora, ragazzi, devo dire che per molte persone arriverà l'amore. Se l'amore ce l'avete già, si rinforzerà, o come quest'idea, si arriverà come un completamento. Se proprio non avete nessuno e non volete nessuno, la carta degli amanti fa riferimento al vostro amore proprio, al sentirvi completi con voi stessi. Ma gli esempi specifici li faccio dopo. Andiamo a vedere la torre. Allora, abbiamo un dieci di coppe, re di coppe e re di spade. Allora, qui questi equilibri che potrebbero essere messi in discussione, diciamo così, potrebbero riguardare la famiglia in generale o due persone nello specifico all'interno della famiglia. Diciamo che quando c'è la carta della torre è perché si tratta di far cadere l'ego, ovvero certe credenze, certe dinamiche, certi equilibri che fino a questo momento sono stati certi, vengono rimessi in discussione, cascano, letteralmente. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Asso di bastoni e asso di coppe, che interessante, devo dire che c'è del movimento, c'è del movimento. Ragazzi, questo cavaliere di pentacoli per qualcuno potrebbe rappresentare la persona di interesse. Forse c'è azione, c'è passione in questa nuova situazione o relazione, o in questa nuova avventura, vi devo dire. Forse si è un po' meno disposti a lasciarsi andare completamente da un punto di vista emotivo, diciamo che è più una cosa che potrebbe essere passionale. E' come se una volta ripristinati questi equilibri sbocciasse in un certo senso la possibilità di questo amore, che sia proprio che sia verso qualcun altro. E' automaticamente c'è come da rivedere certe sicurezze, certe certezze, certi equilibri, come vi dicevo. Sì, è un po' una cosa di... Va bene, andiamo a vedere il fante. Si è già girato un dieci di bastoni. E' una ruota della fortuna. Sento come se ci fosse un cambio di prospettiva, ragazzi. Il dieci di bastoni è una carta che, tra l'altro anche la ruota della fortuna sono due dieci. E' un po' come se si dovesse chiudere con qualche tipo di aspettativa, con qualche tipo di responsabilità. E' come se ci fosse qualche cosa qui che cambia a livello di... Per qualcuno entusiasmo, per qualcuno a livello di egoismo. E' come se si lasciasse indietro, mi viene da dire, l'egoismo per qualcuno. Il ripristinare gli equilibri potrebbe anche essere, per esempio, non lo so, soprattutto se state facendo dei lavori su di voi, magari il rendervi conto che in certi frangenti, perché qui ce lo avete di nuovo, eh, l'infante di bastoni, siete stati un po' troppo egoisti, piuttosto che avete pensato magari prima al vostro benessere, piuttosto che a quello degli altri. Qui è come se ci fosse un cambio carmico, in un certo senso. E avete anche la giustizia, che anche essa è una carta che parla di giustizia divina in qualche modo. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Guardate come si sono fermate, le rimetto dentro, però le guardo. Amanti, 6 di colpa e 10 di spade. Regina di spade e 8 di coppe. Devo dire, ragazzi, che con questo 9 di spade, la fine della primavera, vi vede un po' stanchi. Vi vedo un po' stanchi, in effetti. Abbiamo la regina di spade al contrario, quindi qui ho come la sensazione che ci sia da rifare dei programmi. Voglio un'altra carta per l'otto di coppe. Sì, è un po' come se cambiassero, durante tutto il periodo, è un po' come se cambiassero gli equilibri all'interno di una situazione o di una relazione. Qua vi dicono di buttarvi con fiducia, fondamentalmente, di seguire il flusso delle cose che l'universo vi sta mettendo in avanti, cioè davanti. Ok, allora partiamo dai single, ragazzi. Se siete single, devo dire che ci sono ottime, ottime, ottimissime probabilità di incontrare l'amore. Soprattutto se ricalibrate il vostro modo di pensare e di vedere la coppia. È come se vi invitassero ad essere più egoisti qua, sì. A guardare di più per voi, a dare, ma a dare il giusto, non dare troppo. Ok? Attenzione con l'ipercontrollo e con i pensieri autodistruttivi. Quindi vedo con questi amanti e questo mondo che comunque, insomma, c'è un compimento. Diciamo che probabilmente non si compie esattamente come voi volevate, perché in realtà poi 10 di coppe c'è, quindi c'è questo raggiungimento, ma è come se certe idee, appunto, dovessero crollare. Vi faccio un esempio, stupido. Sono convinta che nella coppia sia sempre lui che deve portare i fiori a lei, vi faccio un esempio. E niente, vedo un fiore da un fioraio, mi piace, lo voglio regalare al mio lui e questo un po' rompere le credenze limitanti che si hanno. Ok? Si rompe lo schema di comportamento. Ora, quando arriva la torre, ragazzi, normalmente è un po' più pesantuccia la cosa. Non è una cosa così leggera. Però vi posso garantire che è per il raggiungimento di un equilibrio diverso, di un'armonia, di un completamento. Se siete in coppia, qui potrebbe esserci... Allora, sento che è come se le cose andassero a fondo, o perlomeno si iniziasse a parlare un po' più chiaro, perché qui si parte dalla giustizia, c'è bisogno di rimettere in regola. Certo, certe questioni all'interno della coppia. Cioè, come da dire, da mettere i puntini sulle i. Però, tutto sommato, rompendo certi schemi di comportamento, potrebbe anche essere rompendo certe promesse, per esempio. Sapete quelle promesse che si fanno un po' così, presi dalla rabbia, certe volte, o cose... Ok, quello potrebbe essere utile rompere, perché sono cose che queste promesse, infatti, in quei momenti non servono, perché non sono calibrate, non sono pensate. Però, ragazzi, qui arriva comunque quello che è un completamento. Vi dico, per qualcuno si potrebbe anche trattare di figli. Per qualcuno, se per caso siete in qualche storia a tre, o in qualche relazione clandestina, devo dire che qui c'è da tagliare uno dei due. Perché qui abbiamo comunque due figure maschili, eh, tra l'altro. Ok, arriviamo al lavoro. Poi dopo andremo a vedere l'economia. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, vedo nuovi inizi, vedo un lavoro che potrebbe darvi delle soddisfazioni, giustamente retribuito, cioè non è uno di quei lavori che vi dice ti do tot, però mi fai 16 ore al giorno. No, ti do per quello che mi fai, quindi potenzialmente, non so perché, ma vedo una valigetta. Quindi potrebbe essere un ufficio, potrebbe essere un... qualche cosa che ha una valigetta, ok? Potrebbe anche essere... Eh sì, è più una valigetta da computer che non una valigetta da estetica, per farvi capire. Però ognuno la prenda come meglio crede. Crede. Vi dico, ci potrebbero anche essere dei nuovi progetti con persone esterne, però sento che in quel caso lì, soprattutto se siete disoccupati, è meglio mettere prima le cose nero su bianco, è meglio mettere le cose scritte su chi fa che cosa, su come... cioè parlare subito di cose concrete, insomma. Comunque ragazzi, vedo che potrebbe esserci come un cambio, nel senso... Ho l'idea che la primavera sia un ottimo periodo per voi per, appunto, trovare lavoro ed eventualmente per qualcuno potrebbe anche poi diventare stabile. Per molti è stagionale, ve lo dico, per molti è stagionale. Però per qualcuno potrebbe diventare stabile. Se foste già occupati... Allora, devo dire che le cose potrebbero andare in modo più o meno calmo. Però, ragazzi, se state aspettando il rinnovo di un contratto, datevi da fare per cercare subito qualcos'altro perché potrebbe non arrivare. Potrebbe non arrivare, è qua. Quello che mi viene da dire è tutelate i vostri risparmi, soprattutto se siete in una posizione precaria. Ok, se invece siete autonomi... Allora, devo dire, ragazzi, che potenzialmente ci sono nuovi contratti che arrivano. Potrebbero esserci nuovi progetti, ma soprattutto nuove collaborazioni. Da, ripeto, partiamo con una giustizia, quindi è tutto da regolarizzare bene. Chi fa che cosa, chi si occupa di che cosa, quanto si guadagna, come si dividono i soldi. Proprio bisogna scrivere tutto. Vi dico, sento che comunque potrebbero essere delle collaborazioni un po' faticose. Un po' faticose, sì. Non mi dicono se saranno fruttifere o no, perlomeno non ancora. Però sì che sono, diciamo, da seguire, ok? Da monitorare. Per quello che riguarda l'economia, ragazzi, allora, devo dirvi che qui, nonostante tutto, avete la ruota della fortuna, avete il mondo, devo dire che avete due volte la carta della giustizia e... sei di pentacoli. Quindi, devo dire che tutto sommato, i soldi non vi mancheranno, anche perché qualcuno smetterà di pagare qualche debito, come se avesse finito, come se si togliesse un peso, o si finisce di restituire quello che si doveva, insomma. Oppure, per qualcuno potrebbe arrivare qualche premio inaspettato che consente di terminare i propri debiti. Qualche aiuto inaspettato, qualche gratificazione. Sento che per molti potrebbe essere la liquidazione o il premio a produzione. Che interessante, ragazzi. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Vi dico, il periodo alla fine della primavera sarete stanchi, questo ve lo dico. Molti, molti, questo sinceramente vi deve servire, non per buttarvi giù di morale, ma per darvi come la spinta con questo asso di bastoni, di muovervi, di agire subito. Molti ragazzi potrebbero non avere più il lavoro che hanno adesso. Ok? Soprattutto se siete precari, ve lo dico. Cercate, cercate... Allora, se doveste cercare dei nuovi lavori, dovete cercare qualche cosa che ha a che fare con i giovani, con i bambini, con il divertimento, con il Luna Park, con le ludoteche, con, non lo so, le piscine, piuttosto che qualche cosa che abbia a che vedere con i bambini. Secondo me lì avete buone probabilità di trovare un lavoro. Anche se fosse, non lo so, magari voi non avete nessuna attitudine con i bambini, non lo so. Fare, non lo so, per esempio il taxi, che ci sono dei genitori che magari lasciano i bambini dai nonni, i nonni non hanno una macchina, per esempio, per portare i bambini a scuola, no? Mentre il genitore è al lavoro. E voi potreste anche semplicemente fornire il vostro aiuto di taxi, baby taxi, per, appunto, non so, magari in alcune zone, il pulmino della scuola non arriva, non lo so, vi ho fatto il primo esempio che mi è venuto in mente. o potrebbe essere... Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere inerente agli animali, inerente alla natura, inerente ai bambini, questo nuovo lavoro, diciamo così, vendita di fiori, vendita di piante, reparto alimentare, ma soprattutto, sento tanto una sorta di stagionalità qui, come se ci fosse qualche lavoro che potrebbe arrivare tra la prima... cioè, sì, potrebbe arrivare in primavera e durare magari fino alla fine dell'estate, ecco, perché poi qua mi viene fuori così. Però va bene, andiamo a vedere. Ok, creatività... Uh, e gli amanti... Ragazzi, vi dico, per qualcuno qua, questo periodo potrebbe essere molto fecondo per i figli, molto fecondo per i figli. E qui, se quello non fosse il vostro caso, ho come adesso, perché sono l'imperatrice e la carta degli amanti, che avete già qui, tra l'altro. Quindi sento proprio questa primavera colma di amore, colma di voglia di creare, voglia di fare, voglia di andare, voglia di espandersi, amore per se stessi, amore per gli altri, sento compassione, sento equilibrio. Guardate, veramente, è un periodo bomba. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, che sono gli oracoli degli oli essenziali, e sono come dei trucchi per aiutarvi in certi momenti di vita. Allora, abbiamo il limone. Allora, pulisce, uplift, tira su, sarebbe, tonifica, ok? e si può inalare, si può mettere l'olio essenzial, cioè inalare, scusate, no, si può mettere nel diffusore, si può applicare sulla pelle, si può ingerire tramite capsule, o anche mangiare. Fate solo attenzione, con l'olio di limone o di arancia, i citronati, diciamo, di non applicarli, prima di mettervi al sole, prima di esporvi al sole, perché sennò vi macchia la pelle, e quindi magari metteteli la sera prima di andare a dormire, a dormire. Va bene, cari amici della bilancia, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se vi fa piacere potete iscrivervi, condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email, oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!